Buongiorno a tutti, in estate abbiamo un problemino, cioè le cavallette. Le cavallette che troviamo comunemente nel nostro orto sono abbastanza piccole, a differenza invece delle locuste che sono anche molto più voraci e che sono mobili, quindi migrano e sono molto più grandi. Le femmine delle locuste vanno dai 3 ai 5 centimetri e il maschio è leggermente più piccolo. 3-4 centimetri. Le femmine sono di color verde, invece i maschi sono più marroncini. Noi abbiamo individuato un paio di queste cavallette che potrebbero essere locuste perché sono abbastanza grandi, sono verdi, forse femmine di locusta, va bene. Però abbiamo anche in questo periodo dove comunque il clima è molto caldo e qui poi secco, arido quasi, si può dire, abbiamo anche tante di quelle comuni cavallette che sono più piccoline. Anche loro comunque mangiucchiano qua e là. Se abbiamo 4-5 piccole cavallette non dobbiamo preoccuparci assolutamente, non succede niente perché i danni non sono così importanti. Invece quando vediamo che la popolazione aumenta, perché normalmente sono stanziali questi tipi di cavallette, quindi tenderanno poi in estate a deporre le uova nel terreno per poi continuare il loro ciclo nelle stagioni seguenti. Dobbiamo un po' intervenire per cercare di controllare questo aumento della popolazione fintanto che non diventi un problema, perché come ho detto se sono poche non c'è nessun problema. Anzi, vediamo poi dopo. Naturalmente abbiamo visto che depongono le uova in estate, quindi sarà opportuno verso la fine dell'estate, cioè da adesso, inizio autunno e poi ancora all'inizio primavera andare a lavorare un po' il terreno, quindi con una zappa, uno zappino, lavorare bene tutto il terreno. Adesso naturalmente non posso farlo con una zappa un po' più grande perché ci sono ancora verdure, ma poi cominciamo già, intanto facciamo già il nostro giro di zappettatura costante e cominciamo anche già, però poi con una zappa un po' più grande, zappare i sentieri in modo da smuovere leggermente senza andare in gran profondità, ma proprio per smuovere bene il terreno. Perché vediamo qua ad esempio i fagiolini che amano particolarmente, vedete, appena usciti mangiano proprio il germoglio e quindi questi in realtà bisognerebbe disseminarli perché non poi, insomma, non funziona più. E amano in particolare anche piante di campo, ma anche proprio tanti ortaggi. Quello che non amano sono le zucche, le foglie di zucche, piselli, diciamo che noi con la semina molto presto in primavera per i piselli non è un problema. E pomodori, non vengono molto apprezzati. Naturalmente poi bisogna anche dire che se la popolazione aumenta in un modo estremo, è chiaro che anche loro poi si adatteranno a mangiare cose che normalmente non sono così appetibili prima, naturalmente, di morire di fame. Questo è chiaro. E vediamo un po'. Abbiamo proprio detto che finché abbiamo poche cavallette non è un problema e dobbiamo solo quando la popolazione aumenta cercare di contenerle. Perché? Perché come tutti gli insetti, come tutti gli esseri che fanno parte dell'ecosistema, hanno un loro ruolo nella catena alimentare. E la catena alimentare è alla base dell'ecosistema. Se noi andiamo a intervenire sulla catena alimentare, non solo sulla nostra, intendiamoci degli insetti e di tutti gli altri esseri viventi, andiamo a rompere dei collegamenti che sarà poi difficile di nuovo rimettere in sesto. Quindi bisogna fare attenzione a portare dei predatori che si cibano di cavallette e possiamo dire subito che gli uccelli, in particolare le rondini, che amano proprio tantissimo questo tipo di alimentazione. Quando si dice, oh, non si vedono più le rondini, è chiaro, tanti insetti spariscono, o uccelli in questo caso. Perché? Perché noi togliamo loro il cibo, quindi noi dobbiamo sempre fare in modo di avere un po' tutto. Perché poi il tutto si equilibria, va in equilibrio, proprio grazie alla catena alimentare. Poi abbiamo naturalmente le galline. Le galline sono anche ghiotte ed è anche consigliato. Adesso non possiamo lasciare le galline in orto perché farebbero più danni delle cavallette. Ma diciamo in inverno, quando abbiamo il terreno libero o ancora poche verdure che possiamo proteggere, è bene lasciarle proprio gironzolare. Perché in questo modo, con il loro raspare, loro vanno a smuovere queste uova, portandoli in superficie. Così, se non le mangiano, almeno comunque prendono un colpo di freddo, un colpo di sole. E quindi andiamo già in questo modo a contenere molto la popolazione, poi già in previsione del prossimo anno. Abbiamo visto gli uccelli, i ricci, le lucertole, le amanti di religiose, che cosa mi sono ancora scritta, rospi e anche serpenti. Quando si parla di serpenti, naturalmente si parla più in generale di bisce, che sono la maggior parte di serpenti che abbiamo in Italia. Ci sono serpenti che non sono velenosi, quindi per noi umani non fanno dei danni, non sono pericolosi, ma sono molto molto utili nel nostro giardino e nel nostro orto. Quindi, anche se fanno un po' paura, lasciamoli. Se arrivano, dobbiamo esserne molto ben felici, diciamo così. Un'altra cosa importante per contenere un po' questa diffusione delle cavallette fuori misura e vi ho detto prima che amano anche comunque le erbe di campo. Quindi, se noi abbiamo dei prati che vanno a confinare col nostro orto giardino, sarà opportuno tenere l'erba sempre tagliata, perché le cavallette non amano vivere nell'erba corta, perché non c'è da mangiare, in sostanza non almeno quello che piace a loro. E quindi, in questo modo, se arrivano dal campo, cerchiamo già comunque di fare quasi un po', tra virgolette, una barriera protettiva. Poi esistono anche delle altre possibilità, cioè si possono fare dei macerati di aglio o con il caffè e spruzzare sulle piante, perché questo sembra che non sia gradito e quindi evitano di andare a rosicchiare qua e là. Si può anche utilizzare farina a secco da spargere sulle piante. Ecco, nei primi due casi c'è quindi l'aglio e il caffè. Io vi ho già detto tante volte che io non amo stare lì e preparare, poi andare, spruzzare, poi comunque quando piove bisogna ripetere, perché non è adesivo, la pioggia la va via, quindi bisogna ripetere e questo mi porta proprio a una grande noia e non mi piace proprio, non lo faccio volentieri. Riguardo alla farina, devo dire che bisogna stare molto attenti perché se noi andiamo a distribuire questa farina in modo troppo pesante andiamo a coprire le foglie e quindi andiamo ad impedire la fotosintesi clorofiliana e quindi andiamo a più portare danno con questo sistema che non magari danno che ci farebbero le cavallette, e quindi sono sempre cose un po' da valutare. Per questo io preferisco di molto, diciamo, i mezzi fisici costituiti da barriere e quindi vi faccio un po' vedere semplicemente cosa ho tirato fuori perché in questo periodo, come abbiamo visto, ancora molto caldo, molto asciutto, quindi nei sentieri o dove non si bagna perché si bagna proprio solo vicino alle piante delle verdure per risparmiare l'acqua e la terra è addirittura arida, è il meglio che le cavallette amino. Ma nello stesso momento adesso noi dobbiamo cominciare a trapiantare tutti i piccoli piantini che saranno poi gli ortaggi dell'autunno e dell'inverno. Quindi io per farvi un esempio ho trapiantato i cavoli di Bruxelles e insomma quando si trapiantano non sono mai già grandi, sono piccole piantine. e cosa succede? Che hanno gradito molto, eccola, adesso una appena si è alzata e quindi mi hanno, praticamente adesso non c'è più niente perché mi hanno mangiato tutto e hanno lasciato solo più il bastoncino, chiaramente era una cosa piccola e così è completamente morto, non c'è stato più niente da fare. Invece dove poi mi sono accorta che anche, perché anche gli altri è la stessa cosa ho fatto delle cose abbastanza imprevesate perché non sempre abbiamo il materiale adatto o non ne abbiamo sufficienza. Ecco in questo caso questa rete che è una rete zanzariera in metallo un pochino più rigida quindi si può modellare e volendo se avete delle file potete anche farne dei tunnel ha il grande vantaggio che naturalmente lascia passare l'acqua alla luce e permette un controllo visivo. Per questo io non utilizzo il tessuto non tessuto in questi casi perché se io vado a mettere le mie piantine sotto il tessuto non tessuto poi tutte le volte che voglio dare un'occhiata per controllare devo tirare su, tira giù e alla fine non le controllo e poi succede che magari ci salta fuori qualcos'altro. È sempre meglio avere un controllo visivo sul nostro orto giardino perché è un indicatore essenziale diciamo. Ecco quindi ho fatto semplicemente che ho chiuso questa rete ne avevo solo più questo pezzo legato a un bastoncino e voilà. Vedete che sotto lui è proprio piccolo perché è stato mangiucchiato già abbastanza adesso con questa protezione vedete che le foglie nuove che ha gettato sono abbastanza sono belle e quindi vuol dire siamo già riusciti a fare una certa protezione e naturalmente avevo solo più questo piccolo resto e quindi ho dovuto pensare a fare qualcos'altro cosa ho utilizzato? una vecchia zanzariera per la porta per una porta finestra quelle che penso abbiamo tutti in casa già vecchia quindi già rotta in diversi punti e non funzionava più le zanzare passano niente da fare però l'ho tenuta perché per coprire qualcosa serve sempre e quindi l'ho tagliata in pezzi e con un cordino l'ho legata a un bastoncino centrale adesso magari poi ve lo faccio vedere perché ho lasciato uno un po' aperto così si può vedere meglio ma è proprio molto spartano perché come ho detto in emergenza non avevo il materiale proprio più adatto così con quello che uno ha si può comunque già inventare qualcosa che già può dare i suoi risultati vedete ho legato questo pezzo di telo di zanzariera a semplicemente un bastoncino ho inserito qualche bastoncino tipo spiedini perché sono quasi la misura giusta per i piantini ecco vedete questo come si è ripreso è tutta un'altra cosa e così ho infilato questi bastoncini di bambù un pochino più per aprire perché se in caso poi piove chissà mai o diciamo dall'annaffiatura si va poi a bagnare rischia di rimanere magari un po' troppo appiccicato in fondo non è tanto un problema perché essendo bucato asciuga molto velocemente però lo stesso ho pensato va bene diamogli un pochino di gioco un pochino più di margine così anche la piantina non è troppo schiacciata in questo modo questa è un po' come ho detto preferisco quella metallica perché si vede un po' meglio però anche questa mi permette già comunque di avere un certo controllo visivo come abbiamo visto subito con la bottiglia di plastica ecco così non funziona perché come vedete nonostante poi io l'abbia bucata dappertutto trattiene troppo l'umidità si scalda perché c'è ancora molto calore troppo umido e questo non fa molto bene alle piante quindi anche lì in emergenza adesso poi mi farò anche questo tipo di sistema anche ancora per i cavoli verza che ho appena trapiantato quindi anche i loro piccoli perché il problema adesso è proprio le giovani piante se vengono mangiate subito da piccole e dopo o non si riprendono più o tribolano troppo quindi è proprio fondamentale ecco qui anche non avevo ancora provato il telo cosa ho fatto ho preso la bottiglia ma non l'ho tagliata come ho tagliato l'altra ho tagliato le due estremità una va interrata e sopra aveva ancora di pezzi piccoli piccoli di questa rete e così l'ho appena appoggiato sopra di modo che non possono entrare vedete che funziona benissimo ecco come ho detto io invece di stare lì e spruzza e non spruzza e prepara e poi piove non piove è vero che ti dà un pochino di lavoro ma insomma in un'oretta hai fatto tutto e poi controlli e quando vedi le piantine cominciano a crescere o prendi un altro telo magari che mi ne avanza ancora di dimensione un pochino più grande poi quando non è una certa misura anche se le cavallette vanno a smangiucchiare qua e là non è più così grave perché la pianta ha già una certa crescita alle spalle e quindi ha già anche una certa energia riesce anche a andare avanti senza subire grandi danni e poi nel frattempo comunque la stagione piano piano andrà a declinare e una volta che molla proprio questo grande caldo anche le cavallette di per sé cominciano comunque a diminuire detto questo si può dire tenete sempre bene sotto controllo come ho detto controllo visivo più costante possibile così si può mantenere già tutto si può intervenire diciamo prima che sia troppo tardi e non dimenticatevi visto che comunque adesso siamo proprio nel momento perché siamo all'inizio di settembre quindi è ancora il momento hanno appena deposto le uova magari con questo caldo così estremo qualcuna deporrà ancora le uova di cominciare queste zappettature in modo da contenere poi le popolazioni per le prossime stagioni in modo da creare un equilibrio poi se noi riusciamo a portare questi predatori nel nostro orto giardino saranno loro che faranno poi il lavoro di mantenere questo equilibrio quindi fatevi aiutare e non fatevi la vita complicata cercando soluzioni chissà che cosa ciao a tutti